Per far portarvi qui per parlare di infrastrutture di questa provincia che hanno bisogno di essere migliorate e di crescere? Io credo che questa provincia è fortemente interessata ai processi di crescita. L'aeroporto di Comso segna una svolta e voi sapete che quello che ha fatto questo governo è proprio per accelerare l'avvio di questo aeroporto. Oggi comincia ad essere una realtà, è chiaro che questo aeroporto va collegato per diventare volano di sviluppo. E quindi le priorità sono quelle centrate all'aeroporto di Comso. Gli collegamenti? No, abbiamo già bandito. La russa a Catania, una cosa che Nello dice sempre.